Allora, buonasera a tutti. Benvenuti all'undicesima edizione di Bruma. Voi sapete che la nostra formula consueta è quella di raccontare un autore attraverso i suoi libri. Noi infatti non presentiamo libri, ma presentiamo scrittori attraverso la loro bibliografia letteraria. Questa edizione è dedicata al giallo contemporaneo. Stasera abbiamo il piacere di ospitare Massimo Carlotto, che è un autore veneto, noto al grande pubblico per i noir con protagonista L'Allegatore e per altri romanzi che raccontano il cuore nero nel dornest e dell'animo umano. Carlotto è anche uno sceneggiatore, un autore teatrale e dirige per E.O. la collana Sabotage. Il suo ultimo libro è appunto Blues per cuori fuori legge e vecchie puttane e anche questo è uscito per E.O. Lei comincia a scrivere quando viene scoperto da Grazia Kerchi nel 1994 e le fa pubblicare un romanzo che si chiama Il Fuggiasco. Dicono che per ogni scrittore c'è un momento decisivo in cui si capisce che si deve scrivere in qualche modo. Qual è stato questo momento per lei? Innanzitutto buonasera, grazie di aver veramente sfidato le intemperie per venire a questo incontro. Allora, in realtà io sono uno scrittore un po' spaglio, nel senso che sono molto felice di esserlo, mi ha cambiato la vita, io credo che sia uno dei mestieri più belli al mondo, però ci sono arrivato in maniera abbastanza strana e contorta, nel senso che io ho scritto il mio primo romanzo, che è un po' un memoir, il Fuggiasco, perché era stata una richiesta dell'ambiente dell'esilio politico internazionale di Parigi, che aveva chiesto di parlare di proprie esperienze personali relative all'esilio e di parlarne da un punto di vista generazionale. Io l'avevo fatto un po' così, nel senso che mi era sembrata una cosa interessante, dal punto di vista politico anche, ma insomma anche dal punto di vista proprio generazionale di quei tempi. Io non avevo mai scritto nulla in vita mia e ho sempre stato però un accanito lettore. Io vengo da una famiglia di lettori malati di lettura che non intendono guarire, insomma. Io ero piccolino, io racconto sempre questa cosa perché è stata la svolta, la mia vita dal punto di vista della lettura. In Salotto avevamo questa enorme libreria piena di volumi, mi ha avuto dieci anni, mio padre mi ha preso per mano, mi ha portato, mi ha detto guarda tu devi leggere solo questo settore, non puoi assolutamente leggere gli altri libri. Io la notte mi sono alzato, sono andato a prendere un libro a caso e ho iniziato così e ho letto di tutto. Quindi è stato un rapporto con la lettura e poi io credo che sia stato fondamentale per la scrittura, per la narrazione, il fatto che vengo anche da una famiglia che ha sempre conservato la tradizione veneta del filò, che era quella dei contadini che si riunivano di notte alla sera in stalla perché avevano freddo e si raccontavano storie. Mio padre ha sempre voluto dedicare la domenica al racconto, per cui noi ci sedevamo a tavola a pranzo e prima delle 17-18 non ci si alzava perché bisognava raccontare e raccontare storie. Non avevo mai scritto prima, mai pensato alla scrittura, ma avevo questa esperienza alle spalle e quindi ho scritto Il Fuggiasco ed è arrivato in mano a Grazia Kerch. Grazia Kerch a un certo punto mi ha chiamato un paio di mesi dopo, mi ha detto io non so che cosa tu faccia nella vita però secondo me dovresti metterti a scrivere. Ma Grazia Kerch ha fatto ben di più, non solo mi ha trovato un editore come le edizioni EO, non solo ha fatto l'editing del libro, ma un giorno, una mattina molto presto, mi ha invitato a Milano nel bar Alemagna di fronte a una stazione, uscendo sulla sinistra c'è questo Alemagna e lì proprio mi ha dato appunto, io sono partito da Padova tipo alle 4 del mattino, allora non c'erano i treni veloci, insomma se stiamo parlando di 23 anni fa, sono arrivato e lei in una mattina mi ha insegnato il mestiere, cioè mi ha detto tu secondo me devi fare così, hai questi difetti che devi correggere, hai questi pregi che devi. E ha fatto una cosa straordinaria che nel mondo dell'editoria è molto rara, perché la gente normalmente non ha una concezione precisa della condivisione del sapere e quindi lei ha fatto veramente molto, però ho scoperto poi col tempo che Grazia Kerch era una donna speciale, da un lato la chiamavano la zarina dell'editoria, però dall'altro è stata una grande critica e ha fatto dei lavori straordinari come editor. E quali erano questi pregi e difetti iniziali? Beh questo non lo dirò mai. Giasco che appunto racconta una vicenda molto tragica, ma anche raccontata con molta ironia, arriva alla verità dell'allegatore, dove incontriamo per la prima volta il personaggio di Marco Buratti, che adesso è un personaggio veramente, un detective cult della letteratura italiana. Lui viene detto l'allegatore, è un ex cantante di blues, dopo essere uscito dal carcere fa delle indagini per i legali che hanno bisogno di entratura nel mondo della malavita. Da quali altri detective letterari nasce questo detective? In realtà la scelta di dedicarmi alla letteratura che allora si chiamava di genere è stata proprio una scelta a tavolino, nel senso che dopo Fuggiasco andò molto bene come come libro dal punto di vista del mercato, quindi la casettrice mi offrì degli altri contratti, però io sono arrivato a una scelta ben precisa, una scelta a tavolino, io ho scelto questo tipo di letteratura perché mi permetteva di dedicarmi alla realtà, cioè di manipolare la realtà, creare un momento tra realtà e romanzo e raccontare le trasformazioni di questo paese. In realtà io arrivavo dall'esperienza sudamericana e quindi ero legato all'idea dell'uso del romanzo di genere come strumento per raccontare le trasformazioni sociali. In Sud America in quel periodo il romanzo poliziesco, il romanzo noir aveva un grande peso perché stava raccontando il passaggio dalle dittature alle democrazie e quindi era una faccina non solo legata alla generazione assolutamente sconfitta, la mia generazione sconfitta in Sud America, ma era anche qualcosa di più, era proprio una sorta di indagine sociale che arrivava nel profondo. Quindi io sono arrivato attraverso quella strada, però dal lettore avevo letto moltissimi autori, però il primo riferimento è stato quello. Tra l'altro uno dei miei maestri in questo senso, Daniel Ciavarria, è mancato pochi giorni fa. Personaggio straordinario, non so se mi è mai capitato di leggere qualche suo romanzo, ma è stato, tutta la sua vita è stato un romanzo. Basti sapere che a Cuba, dove ha vissuto buona parte della sua vita, è arrivato dirottando un aereo. E ha scritto delle cose veramente, era, ma voglio dire, ne avevo conosciuti moltissimi altri, anche la, voglio dire, tutta la tradizione argentina, Riccardo Piglia, Platachemada, quel giro lì, insomma era stato molto importante per me. Dopodiché, devo dire, partendo, scrivendo, ho scoperto tutta una serie di autori, ma soprattutto ho scoperto il romanzo poliziesco italiano, che conoscevo molto poco. È un autore, ma a parte Scerbanenco, tutti i grandi, Fusco, insomma, tutti gli altri. Ho conosciuto Loriano Macchiavelli. Loriano Macchiavelli, autore bolognese, che è stato l'autore che, insomma, in Italia ha sdoganato, insomma, tra gli scrittori. Poi, insomma, è arrivato Camilleri, che ha sdoganato rispetto al pubblico. Sostiene una figura di scrittore cittadino, che in qualche modo deve raccontare la società e il noir anche come uno strumento efficace per rappresentare la società. La formula del noir recita che raccontare una storia criminale che si svolge in un tempo in un luogo è una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno. Io credo che un autore debba attraversare il proprio tempo, il proprio momento professionale, occupandosi del mondo che lo circonda. Quindi è un tipo di scrittura che ben si adatta a raccontare la trasformazione del paese. In fondo, il crimine è una sorta di lente di ingrandimento che l'autore usa per osservare la realtà e raccontarla. Io non a caso ho scelto dei personaggi che sono esterni nella società, sono dei marginali, perché io credo che il punto di vista esterno sia un punto di vista magico per poter raccontare e analizzare meglio la società. Infatti l'alligatore è uscito dalla galera, ma è come se non fosse mai uscito dalla galera. Lui e la sua famiglia, che viene costruita da questi personaggi che sono dei suoi amici, appunto anche loro che hanno avuto queste esperienze, sono malavitosi. Sono come sempre un po' fuori, non riescono mai a entrare veramente nel mondo. Ma in realtà è una scelta. A loro questa società non piace, non hanno nessuna intenzione di averci a che fare. Nel senso che avevano altre idee, altri sogni, sognavano qualcosa di diverso. Sono stati sconfitti dalla storia, ma loro stanno in margini. E il crimine, il momento di contatto che hanno con la società, il crimine appunto è uno strumento che loro usano per osservarle, cercare di capire che cosa succede. Un altro elemento molto presente nei romanzi dell'alligatore è il blues. Infatti l'alligatore è un ex cantante e ama molto il blues. Odia chi lo disturba mentre ascolta il blues. E c'è proprio una vera colonna sonora. In tutti i libri, se uno li mettesse in fila, ci sarebbero delle centinaia di canzoni che vengono ascoltate, che accompagnano gli stati d'animo del protagonista. A me interessava un personaggio che fosse fuori dagli schemi anche rispetto al panorama del romanzo poliziesco del noir italiano. Io ho scelto un personaggio che di fatto al tempo non esisteva. Questo investigatore senza licenza, ex detenuto, ex cantante, che aveva un rapporto molto intenso con un certo tipo di musica che è il blues, che si accompagna con altri due amici carissimi, ma sono anche loro ex galeotti, uno con trabandieri e l'altro è un vecchio attrezzo degli anni 70. E quindi il blues, in questo senso, è una colonna sonora molto particolare, ma voglio dire, ma anche molto adatta al tipo di romanzo e di atmosfere. Per molti anni poi i lettori hanno, si sono ricostruiti le playlist, eccetera, eccetera, poi hanno chiesto invece di trovarla alla fine del romanzo, da questo romanzo, alla fine c'è una playlist. La casa editrice il giorno stesso e l'uscita l'ha fatta trovare su alcune piattaforme come Spotify, per cui i lettori hanno potuto leggere ascoltando la colonna sonora. In questo caso, per la prima volta, una colonna sonora tutta il femminile. Io lo uso anche per, ho una serie di consulenti, soprattutto questo consulente di Torino, che è Edoardo Catfish-Fassio, che è un grande esperto di blues, secondo me forse un grande esperto di blues in Italia, che mi dà una serie di consigli, discutiamo prima rispetto alla trama, e quindi i brani hanno sempre un senso rispetto a quello che il lettore legge. Il Lalligatore dice, ognuno ha il suo blues, il mio è quello di una donna che mi ha dimenticato mentre ero in galera. È come se ogni personaggio ha un blues. Beh sì, è proprio il tipo di musica che ben si adatta a questo tipo di idea dell'uso della musica, insomma. Per cui lui sì, lui quando è uscito di galera pensava di trovare questa donna che l'aspettava, invece giustamente si era ricostruita una vita, la insegue, la segue, cerca le tracce, la trova in Normandia, ma quando trova in Normandia in realtà è in questo caffè ed è insieme a un altro. Allora, Lalligatore non si avvicina, però ha una faccia così triste che si avvicina il padrone del bar che gli mette una bottiglia di Calvados davanti e dice bevitela tutta, perché è una faccia che mi sta intristendo tutta la clientela. Ecco, così nasce anche la passione per il Calvados che è l'alligatore beve Calvados e questo cocktail a base di Calvados che è stato inventato da un famoso barman di Cagliari, Danilo Argiolas, che è un omaggio da una parte a Simenon, c'era la signora Simenon che sempre gli faceva trovare questi bicchierini di Calvados, dall'alto proprio a Normandia che è un posto che amo particolarmente. E anche al rapporto che c'è spesso tra i detective e l'alcol, anche Philip Marlowe ha il famoso succhiello, il Jimlet, che è un cocktail che accompagna tutto il lungadio, è un romanzo astruggente che evoca molto le atmosfere dei suoi libri. Sì, io ho scelto proprio a tavolino, quando ho iniziato a scrivere l'alligatore, come genere l'hard boy, perché secondo me è un genere che ti permette di raccontare un certo tipo di storie. Io infatti lavoro sempre sulle storie, mai sui personaggi, per cui può capitare che un personaggio rimane in panchina per molto tempo perché non ho trovato le storie giuste. Però, insomma, l'hard boy è un tipo di meccanismo narrativo che ben si adatta alle storie che volevo raccontare, soprattutto quelle ambientate nel nord-est, però ho voluto giocare con i generi, nel senso che fin dall'inizio ho detto al lettore guarda che questo è un personaggio, sono una struttura narrativa a hard boy, però io giocherò molto con i generi. Infatti nel primo romanzo c'è un'avvocatessa che dice a Buratti sembri uscito da un film o da un romanzo degli anni 40. Ed è esattamente così perché lo stereotipo è quello, c'è per grandi problemi con le donne, grandi problemi con l'alcol, un cavaliere senza macchia e senza paura, ma io ho giocato sempre molto con l'hard boy per contaminarlo al noir. E il mio percorso professionale è sempre stato in questa direzione, perché il genere va continuamente modernizzato, reinterpretato, perché riflette sempre la storia di un periodo, per cui il lungaddio racconta molto bene la società di un tempo, non sarebbe adatto per raccontare quella di oggi. E quindi la modernizzazione va in questa direzione. Visto che ha parlato delle storie, sarebbe proprio interessante capire come costruisce le trame, perché c'è immagino molta documentazione, perché ci sono romanzi dove lei parla della mala del Brenta o di altri tipi di forme più moderne, di criminalità organizzata, come quella della mafia russa, della mafia albanese. C'è un lungo lavoro di documentazione? Sì, mi è capitato al Festival dei primi romani Chambéry in Francia di conoscere Jean-Claude Izzot. Jean-Claude Izzot è stato un incontro importante, perché lui è stato l'unico in quel periodo stoico, sto parlando di una ventina di anni fa, che aveva capito l'importanza di introdurre elementi di realtà nella narrazione. e quindi di mescolare una serie di dati, di storie, di notizie raccolte attraverso lo strumento del giornalismo investigativo e poi mescolate alla finzione narrativa. È stata un'esperienza importante che lui ha fatto attraverso la trilogia di Montale. Io mi sono detto in quel periodo che era importante lavorare in questa direzione, perché mi permetteva di maneggiare ulteriormente la realtà. e quindi ho cominciato a cercare storie di ampio respiro narrativo e appunto di questo meccanismo di mescolare verità e finzione, più che verità elementi di realtà. E questo ha significato anche però cercare storie, quelle che noi chiamiamo le storie negate, cioè quelle storie che non sono raccontate normalmente. Qui abbiamo da sempre un grossissimo problema, cioè che questo paese ha un rapporto perverso con la verità. Sembra quasi che gli italiani non abbiano diritto a conoscere la verità. Noi abbiamo tutta la questione dei grandi misteri italiani, che sono misteri. Nessuno ci verrà mai a dire cos'è veramente successo Piazza Fontana, Austica, i rapporti Stato-mafia. L'Italia è così, è un grande mistero. E questo ha prodotto, secondo me, un fenomeno antropologico proprio nel mondo dei lettori, perché a un certo punto i lettori, quando hanno capito che una parte degli autori quantomeno iniziava a infilare elementi di realtà all'interno dei romanzi, hanno cominciato a fare richieste, a chiedere, ma perché non racconti quella determinata storia? Ed è un fenomeno tutto italiano. Io ho già scritto quattro romanzi a partire da sollecitazioni dei lettori, perché non scrivi questo, vieni qua a vedere, eccetera, eccetera. E questa è una questione molto interessante. E poi non bisogna mai dimenticare dimenticare che questo è l'unico paese d'Europa, secondo me, del mondo, dove c'è un altissimo numero di poliziotti, carabinieri e magistrati che scrivono questo tipo di romanzi. E la cosa incredibile è che quando si va a leggere questo tipo di narrazione, è una narrazione completamente diversa da quella ufficiale rispetto al loro lavoro. E questa è una cosa intrigante. Significa che c'è sotto traccia un fermento legato al racconto di una relazione strana che c'è tra il romanzo, che dovrebbe essere la cosa più finta del mondo, e la verità, la narrazione del paese. Appunto perché secondo me c'è questo problema molto complesso, questo rapporto perverso, che poi ha determinato molto rispetto all'informazione. Oggi siamo subissati di informazione, da miliardi di informazioni ogni giorno, però in realtà sulla qualità dell'informazione e che ci sia un uso sociale dell'informazione, da questo siamo ben lontani. Nei libri sull'alligatore ci sono appunto degli altri personaggi che fanno da contorno, che gli sono vicini. Uno di questi è Beniamino Rossini, che è il suo accompagnatore d'eccellenza. È un malavitoso che poi ritornerà in un altro bellissimo libro che si chiama Terra della mia anima, in cui verrà raccontata tutta la sua storia da quando era ragazzo a dopo. Come capita che questi personaggi ritornano? Nel tempo si crea un'affezione nei confronti dei personaggi? Questo era proprio un discorso relativo alla serialità. Nel senso che quando io ho iniziato a scrivere la storia dell'alligatore ho voluto infilare anche questi altri due personaggi, insomma un trio di personaggi, che poi col tempo si è strutturato e stabilizzato di storia e storia e ho scelto fin dall'inizio Beniamino Rossini. Beniamino Rossini è realmente esistito, è stato un personaggio straordinario. Io ho raccontato la sua vera vita in un romanzo, La terra della mia anima. Un romanzo tra l'altro che ha avuto una storia molto particolare, conflittuale con i lettori, nel senso che moltissimi lettori fedeli dell'alligatore non l'hanno letto. Perché? Perché questo è il romanzo che io ho scritto sulla vita di Beniamino Rossini, ma poco prima che morisse. Nel senso che io vivevo ancora in Sardegna a quel periodo. Lui è arrivato con un registratore e un pacco di cassette, mi ha detto ti devo raccontare una storia. Era malato, era malato di cancro ed è stata l'unica, l'ultima cosa che ha fatto nella sua vita a raccontare. infatti è uscito pochi mesi dopo il romanzo, è uscito pochi mesi dopo la sua morte e moltissimi lettori mi hanno proprio detto, ho scritto, io quel romanzo lo compro, me lo tengo, però non lo leggerò mai perché non voglio leggere la morte di Beniamino. Infatti io volevo chiudere la serie in quel periodo perché è morto Beniamino, a parte che il dolore personale era perdita di un amico carissimo, ma i lettori si sono opposti e hanno detto no, per un personaggio di carta continuo a scriverlo. Questo per dire che la relazione che spesso si crea con i personaggi è seriale e sono una questione complessa ma anche voglio dire in maniera simpatica, divertente, uno dei periodi più buffi che ho vissuto dal punto di vista professionale è stato quando in un romanzo ho fatto l'errore strategico di far rifidanzare l'alligatore con la sua fidanzata storica. Dopo due giorni ho cominciato ad arrivare mail dicendo ma che cosa hai fatto? quella donna non è adatta a lui dovrebbe morire nel prossimo romanzo anche un incidente va bene io in quel periodo non stavo lavorando a un romanzo anzi avevo scritto un romanzo ma l'avevo dato a un grande fumettista che è Igor perché scrivesse una storia dell'alligatore e quando è uscito sono arrivate le mail non fare il furbo non hai rischi lì non c'era Virna non c'era il personale non fare il furbo alla fine disperato ho aperto un dibattito con i lettori una lettrice mi ha dato no mi ha dato l'idea giusta per risolvere una cosa che io da maschio non ci sarei mai arrivato infatti bisogna sempre chiedere le lettrici mi ha detto ascolta risolvila così nel prossimo romanzo Virna si sposa con un altro no però l'alligatore rimane l'amante fedele di Virna risolto il problema io non ci sarei mai arrivato oltre a Beniamino Rossini a formare questa triade indissolupile abbiamo Max la memoria che è un ex militante di estrema sinistra che si occupava di controinformazione e poi a un certo punto viene accusato di aver dato dell'informazione alla lotta armata quindi si dà la latitanza e il suo unico contatto con l'esterno è quello di Maria Elita che è una musicista molto affascinante che poi avrà dei trascorsi anche con l'alligatore e che appunto è il suo veicolo per dialogare con il mondo come hai lavorato su questo personaggio e perché hai costruito questa triade intorno all'alligatore è nata naturalmente o aveva una delle funzioni precise rispetto al personaggio rispetto alla serie hanno proprio delle funzioni precise nel senso l'alligatore è uno che è un crociato gli avvocati che lo ingaggiano chiamano il crociato cioè lui si caccia nei guai no? Beniamino Rossini che la forza e anche la saggezza lo salva e voglio dire invece Max Memoria è quello che fornisce le informazioni è un abituato agli archivi a ritagliare i giornali a metterli via a capire a usare il computer che è un personaggio che mi è molto utile perché quando ho dei momenti di analisi dovevo spiegare alcuni meccanismi criminali al lettore uso questo personaggio Max a me poi col tempo sono diventati tre amici a me interessava una serie costruire una serie dove uno dei fondamenti fosse l'amicizia perché l'amicizia per me è un valore assoluto della vita e mi piaceva questa idea anziché il personaggio solitario no? ecco dell'hard boy il personaggio invece un trio di amici che decidono di giocarsi la vita di affrontare il destino ma insieme e quindi anche con dinamiche relazioni tra di loro in questo senso ed è molto interessante e questo devo dire anche svilupparlo negli anni perché io non ho mai creduto nella concezione americana dei personaggi sempre uguali a loro stessi e del mondo che cambia intorno a loro invece a me piace l'idea di personaggi che invecchiano che comunque hanno un rapporto molto preciso col tempo in cui vivono proprio all'interno del romanzo e questo scatena molte preoccupazioni da parte dei lettori nel senso che qualcuno mi scrive e dice ma se Rossini aveva 50 anni 23 anni fa adesso quanti anni ha non fidatevi dell'autore io posso barare quanto voglio sulla questione anagrafica e invece mi interessa proprio la questione esistenziale che loro siano perfettamente calati nel tempo l'altro diciamo il terzo angolo della triade è Camillo Piran detto il colonnello che lui viene chiamato così perché in carcero dava sempre un gergo militare e lui è un grande stratega di azioni quindi anche lui ha una funzione ma solo in un romanzo ok sì Camillo Piran che si riferisce Piran si chiama Anne è un personaggio storico di Padova che era chiamato il colonnello ed era quello che negli anni settanta dirigeva la piazza ed era un personaggio straordinario poi dal punto di vista umano della simpatia e quindi l'ho voluto citare in quel romanzo esattamente arriva anche il momento di andare in pensione per tutti e poi ci sono tutti i nomi della malavita che sono un'altra storia i nomi dei personaggi i suoi romanzi i nomi della malavita tutti non hanno solo il loro nome hanno anche un nome che li accompagna come se fosse una narrazione interna io mi rifaccio sempre a storie realmente cadute quindi quando ho scritto nessuna cortesia all'uscita che racconta la storia di Felice Mania della mafia del Benta io poi baro sui nomi però cerco in qualche modo che siano riconoscibili a volte anche esagero come nel caso di Felice Maniero l'ho chiamato Tristano Castelli Felice Maniero infatti quando è uscito il romanzo sul gazzettino c'era un'intera pagina sul romanzo con le nostre foto così poi paro esattamente e quindi insomma io gioco sempre sui nomi però a me piace il doppio binario di lettura mi amo il fatto che la gente i lettori che vivono nel territorio dove si ambientano le storie possano riconoscere i personaggi infatti mi faccio ogni volta un sacco di amici per quello e qui parliamo anche del nord est che è più che un luogo è un vero protagonista delle sue storie perché appunto una delle caratteristiche importanti del romanzo italiano è che poliziesco in particolare che si distingue molto dai tipi di criminalità che variano da sud a nord ogni regione italiana per nostra fortuna ha un tipo di criminalità e quindi è interessante diciamo perché in pratica tutti i tuoi libri costruiscono un lungo discorso un lungo romanzo sul nord est sì il nord est dal punto di vista narrativo è un territorio straordinario perché è uno territorio che per esempio è studiato da tutte le università del mondo sulla questione dell'evoluzione criminale perché è il territorio dove è nato il cosiddetto sistema sistema italiano in questo senso è un territorio geograficamente è un territorio di confine ma soprattutto è stato il territorio che ha sviluppato un sistema economico la cosiddetta locomotiva del nord est che veniva ditata a livello nazionale come un esempio da seguire ovunque che è vero che da un lato ha sviluppato ha arricchito il nord est c'è stato un periodo in cui la provincia di Treviso aveva un PIL che era superiore a quello della Grecia dei tempi migliori quindi una ricchezza enorme come non c'è mai stata in questo paese però è anche vero che questo sistema economico aveva dei difetti fin dall'inizio che hanno permesso uno sviluppo di una sorta di legalità interna che ha fatto arricchire ancora di più ambienti corrotti per esempio l'uso sistematico del lavoro nero di quei migranti che adesso non vogliono vedere più nemmeno dipinti l'evasione sistematica delle imposte è stata una cosa vergognosa per moltissimi anni continua ancora adesso secondo me non è stata fatta in maniera assolutamente sistematica e poi grande affare con la camorra dello sbaltimento illegale dei rifiuti siamo stati noi veneti i primi a riempire di rifiuti scoria industriale cosiddetta terra dei fuochi c'era proprio un meccanismo criminale per cui i camion con le scorie industriali entravano in questi capannoni dove le scorie dovevano essere lavorate invece uscivano dall'altra parte andavano al sud scorie industriali e ospedaliere questi sono stati tre meccanismi che hanno determinato una sorta di infezione nel sistema che ha attirato l'attenzione di tutte le culture criminali che giravano per l'Europa in quel periodo perché era un sistema fatto apposta per riciclare e questo ha portato all'insediamento del territorio soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino quindi la caduta del muro arrivano qui le culture provenienti dall'est e impongono una sorta di dominio però che cosa succede? Succede che nello sviluppo criminale c'è una grandissima novità cioè è il primo territorio dove si crea in pianta stabile una relazione tra le criminalità organizzata e le culture mafiose e ambienti corrotti però di tre settori fondamentali della nostra società che dovevano essere immacolati che sono l'imprenditoria la finanza e la politica si crea un ponte si crea un sistema che adesso è molto forte e robusto ed è quello che funziona in tutta Italia quindi questo è una novità voglio dire che ha reso il territorio assolutamente incredibile per le cose che sono successe anche se non ci sono mai stati morti o attentati poco importa è il cuore economico quel cuore economico che ha portato il fondo monetario internazionale a dire ragazzi guardate che voi italiani siete il quarto paese al mondo dove le culture criminali internazionali cioè le mafie a livello internazionale investono quattrini cioè dopo isole Cayman Stati Uniti e Russia l'Italia è il quarto paese al mondo dove la criminalità investe soldi già riciclati in attività pulita ma non lo fa il sud lo fa il nord dal nord ovest al nord est però il nord est è stato il meccanismo proprio economico che ha permesso questo tipo di sviluppo criminale questo tipo di riciclaggio e quindi c'è un tessuto sociale politico finanziario che è molto interessante che io racconto nei miei romanzi è brutto dirlo però io con il nord est avrò lavoro per molto tempo perché quello che succede è incredibile voglio dire in Italia c'è stato questo eccesso di notizie rispetto a mafia capitale mafia capitale ragazzi è importante quanto volete però è una storia a 200 milioni di euro a ben guardare come diciamo noi in Veneto senza storia da Poaretti cioè poverace perché noi solo colmose e solo di tangenti abbiamo superato il miliardo noi abbiamo creato una legge per costruire un'opera inutile che serviva solo per arricchire e riciclare è stata una cosa che è straordinaria da questo punto di vista e quindi insomma il Veneto è quel territorio che va raccontato è interessante quello che è successo oltre 20 anni fa in questo paese cioè che gli autori hanno capito l'importanza di dividersi il territorio di raccontare il territorio dove vivono e dove lavorano perché il territorio in Italia così è diventato un vero e proprio personaggio all'interno dei romanzi che è stata anche la nostra fortuna per traduzione all'estero nel senso che questo elemento ci ha ritenuto particolarmente interessanti e le case editrici estere hanno cominciato a tradurci infatti è stato tradotto e come è stata la fortuna all'estero dei suoi romanzi e lei ha diciamo le è piaciuta questa esperienza il fatto di arrivare a dei lettori lontani anche culturalmente riteneva che comunque potessero capire quello che lei raccontava i suoi noir sono un po' alla francese per certi versi cioè li chiamano un po' i zoo come lei prima accennava secondo lei poteva arrivare anche se erano territori così diversi da loro una cosa che non va detta ai francesi se no si arrabbiano perché mi hanno sempre detto che sono molto italiano invece vabbè i zoo i zoo in realtà i zoo non è Francia il Mediterraneo nel senso che la concezione proprio di i zoo rispetto rispetto ai romanzi il fatto di aver sempre raccontato il Mediterraneo e poco la Francia infatti è considerato molto poco francese in Francia al punto che quando Marsiglia la sua città è diventata capitale europea della cultura non c'è stata una sola iniziativa su i zoo perché i zoo rifiutava il concetto della Francia la Francia stava alle spalle ma davanti aveva il Mediterraneo e per ricordarlo abbiamo fatto noi un'iniziativa a Genova così tanto per dirlo e dunque pensavo che appunto sarebbe stato compreso come tipo di sì ah no all'estero sì 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 è anche molto bello andare a a presentare in giro poi tutti i paesi hanno le loro usanze io rimango sempre stupito per esempio della Germania in Germania quando si fanno le presentazioni vabbè loro hanno la literature house che è proprio la casa della letteratura però c'è una cosa che mi mette sempre in agitazione perché in Italia non potrebbe mai succedere cioè che invitano sempre tanto le persone che arrivano pagano vabbè ma questo c'è sempre un attore che legge all'inizio e legge per un'ora poi legge l'autore in italiano mezz'ora pausa caffè o bicchiere di vino e poi dibattito no io ho sempre il terror invece no il problema è molto diverso perché lì la cultura tedesca ama molto il discorso dell'ascoltare infatti se noi andiamo a vedere le differenze di vendita degli audiolibri vediamo che in Italia non esiste questa cultura e l'ascolto per cui una situazione già arriva uno legge per un'ora dopo dieci minuti non ci sarebbe più nessuno nei suoi libri abbiamo anche molto degli echi che sono cinematografici e che si richiamano ci sono anche delle scene di violenza che mescolano violenza e umorismo in una sorta di tarantino antitarantino oppure degli altri proprio film che sono citati come cani da rapina il mucchio selvaggio di Peckinpah e in più lei è stato anche sceneggiatore dei suoi film quindi c'è un rapporto tra cinema e la sua letteratura io credo che uno scrittore moderno debba essere per forza contaminato da altre forme artistiche nel senso che deve vivere esattamente il mondo del lettore il mondo del lettore è fatto viviamo in un mondo dove l'immagine ogni giorno di più ha un valore un senso bisogna tener conto di tutto anche il fumetto ha la sua importanza e quindi per me il cinema poi è molto importante io ho sempre detto che ho capito la differenza tra romanzo poliziesco e noir guardando una volta una scena molto lunga per molti noiosa per me no di un film di Takeshi Kitano lì ho capito esattamente anche che cosa volevo raccontare io in fondo sono forme anche il cinema è una forma di narrazione molto prengisa i linguaggi sono sono diversi ma secondo me io tutto quello che vedo sento per me è importante insomma non solo quello che leggo se no il romanzo avrebbe una dimensione ottocentesca non avrebbe nessuna dimensione moderna dal punto di vista della capacità del racconto e il cinema è anche stato come la televisione insomma il teatro sono esperienze in cui uno si misura un autore si misura con modi e concezioni di scrittura completamente diverse insomma scrivi una sceneggiatura significa scrivi per far vedere quando scrivi un romanzo scrivi per far immaginare che per me è un lavoro molto lungo io scrivo romanzi molto lunghi che poi asciugo 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 finché diventano non posso togliere nemmeno una virgola poi i lettori si lamentano perché li finiscono subito ma in realtà è che io ho sempre lavorato sulla velocità di lettura a me interessa che il lettore entri nella storia e poi si dimentichi il latte sul fuoco va da letto tardi la notte cioè che mi insulti la mattina dopo perché ha fatto tardi perché crea una relazione perché la lettura è un momento di assoluta intimità con la storia e io sempre quando scrivo penso sempre a questo momento del lettore che sta leggendo questa storia però mi piace molto anche giocare con il lettore cercare di farlo correre all'interno della storia infatti molto spesso il lettore inconsapevolmente nella velocità arriva a terminare a sviluppare concetti che io non ho terminato di narrare di raccontare e questo è una tecnica ovviamente di scrittura una tecnica narrativa che io all'inizio non avevo ma poi una notte proprio nel traghetto tra Civitavecchia e Cagliari proprio l'ultimo libro preso al volo in libreria perché mi ero dimenticato di avere qualcosa da leggere per la notte mi è capitato in mano questo libro di Luigi Pintoro che era Servabo grandissimo romanzo una storia familiare molto intensa non ha nulla a che vedere con il noir però aveva questa capacità di catturarti e di obbligarti ad avere una relazione molto intima con la storia con questo tipo di scrittura molto scattante molto breve e molto veloce allora da quel momento ho iniziato a lavorare in questa prospettiva prima ha citato il fumetto lei ha lavorato a dei fumetti e so che ha intenzione di lavorare ancora sul fumetto che è un linguaggio che le interessa molti dicono che sia la nuova forma di romanzo addirittura viene candidato a premi importanti come lo strega che una volta erano patrimonio della narrativa più classica il fumetto è molto importante in questo paese ancora no nel senso che se noi vediamo i dati di vendita per esempio in Francia in Francia escono una decina di novità al giorno di fumetto in Italia vuol dire che c'è un mercato enorme però per me è una forma di narrazione molto molto importante poi che sia la nuova forma di narrazione non lo so perché lo dicono delle serie tv qualsiasi cosa è una forma di narrazione blog facebook qualsiasi cosa non lo so forse tutto concorre io credo che il fumetto invece ti dia la possibilità di raccontare certe cose che nel romanzo avresti difficoltà insomma il momento visivo è importante adesso ho fatto una serie di esperienze adesso torno al fumetto con diversi progetti ma il primo a cui sto lavorando è che lavorare al fumetto ha dei tempi estenuanti perché un fumetto lo bruci ma il lavoro che c'è dietro è lunghissimo io a volte mi spazientisco ma è stato uno dei motivi per cui l'ho abbandonato per un po' perché avevo voglia di fare altre cose adesso esce con una nuova edizione con una nuova edizione cristiani di Allah e con introduzione di Amara Lacus un'altra un'altra insomma forma però parallelamente sto lavorando con Palumbo su cristiani di Allah fumetto è un progetto che abbiamo da diversi anni lui ha fatto un lunghissimo lavoro dal punto di vista di ricerca dal punto di vista storico ha finalmente tirato fuori questi due corsari che sono i personaggi di questa storia e quindi adesso sta lavorando in quella prospettiva e parlando appunto di libri extra alligatore perché poi numerosissimi sono i libri che non raccontano non l'alligatore ma raccontano delle altre storie che sono sempre sono un'arma delle volte sono anche diverse come proprio questo cristiani di Allah che si svolge nel 1500 nel Mediterraneo e è la storia di due corsari che sono due lanzichenecchi rinnegati che hanno scelto la libertà e questi due personaggi comunque sono sempre sono appunto i corsari barbareschi c'è una citazione all'inizio del libro che dice sono uomini che vanno e vengono indifferenti delle frontiere degli stati e delle fedi quindi sono ancora è ancora la storia di due irregolari in qualche modo sì lì un romanzo che è nato per caso perché mi trovavo ad Algeri con Amara Lacus il mio editore perché stavamo eravamo alla fila del libro di Algeri e a me interessava esserci con Amara Lacus per cercare nuovi autori capire il noir mediterraneo dall'altra parte era il periodo in cui ancora si pensava di costruire un ponte con l'altra sponda del Mediterraneo e rompere questo muro che ci divide che la storia non condivisa dopo questo è un progetto che ovviamente la storia ha spazzato via e lì camminando per Algeri con un archeologo mi ha mostrato una moschè e mi ha detto ah quella è dedicata dall'Ipiceni ho detto veramente da noi in Veneto Piceni significa piccolo e dice sì sì era un rinegato era veneto quindi ho conosciuto una cosa che io non conoscevo assolutamente e cui non avevo mai sentito a parlare che è la storia dei rinegati cioè per un tot di secoli siamo stati noi ad andare dall'altra parte del Mediterraneo e le città corsare erano un luogo assolutamente di progresso civile purtroppo non sulla questione femminile perché la condizione femminile era terribile lì come in occidente ma in realtà era un luogo di perché era un luogo illuminato perché al potere non c'era il potere religioso ma c'erano i rinnegati cioè gente che aveva deciso di non essere più cristiana aveva abbiurato per costruirsi un altro tipo di vita e questo era voglio dire lì appunto ho trovato questa storia dei due lanzichenecchi che è una storia dei due lanzichenecchi che scappano dal corpo perché sono gay e quindi sarebbero stati uccisi si rifugiano perché lì nelle città corsare non hanno problemi di questo tipo come si rifugiavano per esempio gli ebrei gli ebrei scappavano perfino dalla Polonia dei pogrom polacchi per rifugiarsi nelle città corsare perché lì potevano vivere e non c'era voglio dire c'era diritto a professare ogni religione perfino gli schiavi potevano fare le processioni dovevano solo pagare un ovolo da tutta parte erano corsari quindi avevano capito l'importanza del denaro ma dal punto di vista di libertà è tutto questo ho trovato i documenti che mi servivano perché ho avuto la fortuna che attraverso l'istituto di cultura italiano sono arrivato alla ministra della cultura che mi ha aperto la cittadella che è chiusa l'Algeria è un paese morto da questo punto di vista non ci sono turisti se voi prendete un aereo per andare in Algeria ci sono solo uomini e d'affari l'Algeria è stata occupata dai cinesi ovunque ci sono cinesi che lavorano che dirigono il lavoro ma sul resto del paese è un paese che non è mai uscito dalla guerra civile per esempio c'è una piazza esattamente come una piazza plaza de maggio a Buenos Aires dove ci sono le madri degli scomparsi della guerra civile che ogni giorno ogni mercoledì della settimana vanno a chiedere che fine hanno fatto i loro figli e ho avuto questa fortuna per cui insomma mi sono anziché tornare mi sono fermato ho studiato sono tornato in un materiale e ho scritto questo romanzo visto che ne ha parlato ora appunto le donne di Plaza de Maggio sono al centro di un romanzo che si chiama Le irregolari horror tour che quest'anno si festeggiano i vent'anni da quel libro che è un libro importante perché comunque racconta un episodio di violenza la tragedia dei desaparecidos cioè una violenza che ha segnato la storia ed è anche attuale perché in questo momento in Sud America si ha di nuovo anche se si è fuori dalla dittatura una nuova violenza che si sta riproponendo sì anche quello un romanzo che è nato in maniera piuttosto strana nel senso che io ero andato in Argentina con i soldi del primo premio letterario perché volevo scrivere una storia su mio nonno mio nonno era un anarchico della provincia di Vicenza che per non servire il re era scappato in Argentina attraverso le reti di solidarietà anarchiche ed era rimasto lì per un tote di anni poi era tornato e non aveva mai detto una parola a nessuno su quello che aveva fatto in Argentina non si poteva parlare dell'argentino quindi la curiosità era allora tanto che quando sono partito sono stato convocato dalle vecchie zie che mi hanno detto se trovi famiglie cose storie lascia stare non cacciarci nei guai perché il nonno era un personaggio insomma particolare allora parto per l'argentino arrivo in questo hotel e in questo hotel il portiere guarda il passaporto vede scritto Carlotto e mi dice ah lei è parente di Estela Carlotto in realtà questa Estela Carlotto non l'avevo mai sentita beh dall'altra parte della strada c'era la sede delle nonne di Plaza de Maggio e la presidentessa insomma alla fine era una mia lontana parente del ramo argentino lontana parente figlia scomparsa tutta la famiglia perseguitata figlia scomparsa e incinta poi aveva dato la luce un bambino subito dopo era stata uccisa ma non era scomparsa perché la famiglia aveva pagato un riscatto per riavere il corpo c'era la compravendita dei corpi insomma e quindi avevano recuperato il corpo quindi era riuscita a razionalizzare il lutto come famiglia ma c'era questo discorso della ricerca dei bambini io mi sono trovato all'improvviso in mezzo a questa storia e ho deciso di lasciar perdere il nonno io volevo ricostruire la storia del nonno a dei comuni anarchiche italiani nella Pampa Argentina invece sono rimasto in Pampa non ci sono mai stato poi sono rimasto lì a Buenos Aires e ho conosciuto questa storia queste donne straordinarie che sono le mamme e le nonne di Pasa de Maggio la storia dei nipoti e ho scritto due libri il primo è Le irregolari Buenos Aires Horror Tour perché ho avuto la fortuna di incontrare questo Santiago Otero questo personaggio è un personaggio molto strano di giorno porta in giro i bambini a scuola con un vecchio pulmino Mercedes pulmino un vecchio pulmino Mercedes e di notte invece lo uso per portare in giro coloro che vogliono conoscere la storia dei desaparecidos e si chiama Buenos Aires Horror Tour l'ho chiamato io così perché si partiva lui si fermava e diceva in questa casa abitava nome cognome questa storia eccetera eccetera che è una storia incredibile perché era un modo per ridare fisicità a gente che adesso è così scomparsa che è solo un nome in una lista invece lui riusciva a restituire è un briciolo anche perché bisogna pensare che la dittatura quando faceva sparire le persone molto spesso faceva sparire tutto cioè i documenti in comune le fotografie veniva bruciato tutto veniva proprio eliminata anche i ricordi rimanevano solo le persone che le avevano conosciute e quindi attraverso con questa esperienza che è Buenos Aires Horror Tour ho ricostruito la storia che è anche la storia degli italiani perché gli italiani sono la seconda comunità argentina dopo quella spagnola e quella che ha avuto più scomparsi sostanzialmente ci sono stati il numero maggiore di morti gli italiani dopo la seconda guerra mondiale maggior numero sono stati lì sono scomparsi alcune migliaia di italiani ma per noi non era una storia perché non si poteva raccontare in quel tempo Licio Gelli era rappresentante economico dell'ambasciata argentina qui era lì quasi tutti i generali della giunta militare erano facevano parte della P2 insomma c'era un controllo e poi degli interessi internazionali per cui insomma non abbiamo mai avuto una insomma un'idea ben precisa di quello che è successo in Argentina quindi ho scritto questo romanzo racconto questa storia soprattutto di italiani ma non solo dei Carlotto dell'Argentina e non solo ed è una storia che in quel periodo è uscito vent'anni fa questo romanzo finiva con Estela che cercava il nipote il figlio di Laura ebbene tre anni fa l'ha ritrovato è una storia incredibile è stata l'ha ritrovato e la famiglia si è si è riunita e la cosa che mi colpisce è che è un musicista e il suo vero padre era un musicista il padre che non l'ha mai conosciuto lui credeva che il padre e la madre fossero le persone che lo hanno allevato ma in realtà non era così era un musicista tra gli altri libri appunto che non che non raccontano l'alligatore ma che indagano sempre un po' il cuore nero degli esseri umani perché poi c'è un discorso sempre che faceva anche Simenon che lui raccontava storie nere storie di omicidi ma in realtà la cosa che gli interessava di più era capire perché le persone si comportavano in questo modo e passavano un confine che era quello tra il bene al male c'è un altro libro che si chiama Niente più niente al mondo lì siamo alla periferia di Torino c'è una donna appunto che è una casalinga che uccide la figlia ed è interessante lì perché lei dice appunto che il sogno è la televisione nei rotocalchi mentre invece come la verità fosse invece l'orrore c'è una sorta di distinzione in quel periodo mi trovavo a Torino perché appunto lavoro per lavorare con l'assemblea teatro ma proprio alla messa in scena della pièce teatrale tratta dalle Regolari e leggo sulla stampa questo omicidio di questa madre che in un quartiere ex Fiat ex operaio uccide la figlia perché non voleva fare la velina questo era il titolo allora ho mollato tutto ho detto ragazzi aspetta vado a vedere e sono entrato in un mondo che mi interessato moltissimo anche questi quartieri che prima avevano una solidità anche culturale fortissima no? che era anche di quella del quella proprio dell'operaio massa tipico ma insomma avevano una cultura una solidarietà una uniformità un'omogenità culturale e invece dopo si è sfasciato tutto con la fine della Fiat non c'è più niente arrivano anche gli immigrati per cui si creano conflitti e soprattutto arriva una cultura di massa che devasta tutto quello che c'era prima insomma arriva il berlusconismo di fatto senza senza girarci troppo intorno e si crea anche una situazione molto particolare nel senso che quello è il periodo in cui su solo i 24 ore esce un articolo che dice che in Italia stava diminuendo il consumo del latte fresco a livello mensile nelle famiglie in alcune fasce di famiglie italiane cioè stava arrivando la crisi mancavano e quindi questo è il primo di una quella che chiamo la trilogia del mondo che sono tre libri sulla piccoli libri sulla sulla crisi tanto che l'editore si è dovuto inventare una collana per farlo uscire e che però io ho pensato per il teatro anche per il teatro quindi a questa doppia funzione un racconto lungo ma anche un testo teatrale e quindi ho raccontato la storia di questa donna che ossessionata dalla povertà dalla mancanza di futuro e con la figlia bella che non capiva che era importante no giocarsi la vita e andare in in televisione e che era molto bella quindi invece lei proprio se ne fregava altamente e odiava in qualche modo la madre perché non la ossessionava da questo punto di vista con un padre assente ex operaio fiat licenziato sconfitto che era costretto che era stato costretto a stacciare la tessa del sindacato con il nuovo lavoro che aveva trovato eccetera quindi una situazione molto complessa da questo punto di vista e questa donna poi alla fine ammazza la fine e quindi è stato il primo il primo tentativo che ho fatto di approcciarmi al discorso di come la crisi influisce da un punto di vista antropologico sulle persone poi la seconda puntata è stato il mondo non mi deve nulla che è la storia di questo ladro che è un ex operaio senza lavoro che entra in questa casa e trova un personaggio molto strano questa donna questa tedesca questa croupier e da lì nasce una relazione stranissima tra i due e adesso il prossimo libro infatti che uscirà al prossimo insomma il prossimo anno il 2019 uscirà la terza e ultima puntata di questa trilogia del mondo le donne sono molto presenti nei suoi libri ma sempre diciamo come un elemento un po' conflittuale diciamo che gli uomini fanno fatica a creare un rapporto con loro sono quasi delle donne sempre misteriose rimangono un mistero per i suoi personaggi ma io in realtà racconto un pezzettino dell'universo femminile cioè che è quello che ha relazione con la criminalità e che non ha nulla di universale voglio dire a questo punto di vista è un pezzetto che vive una situazione molto particolare che io ho sempre detto sempre sostenuto sempre scritto che le donne a contatto con il mondo criminale sono perdenti sono sempre state perdenti sempre lo saranno perché la criminalità è un mondo maschile la violenza è maschile e le e le donne anche quando diventano qualcuno all'interno del mondo criminale ripercorrono modelli maschili basta vedere per esempio le donne boss le femmine boss come chiamano le donne di camorra che con il marito in galera marito morto diventano capo della cosca in realtà lì non è che impongono un punto di vista femminile nella camorra devono ripercorrere i modelli maschili per cui voglio dire che le prostitute che gestiscono le trattano esattamente come erano trattate prima non c'è nulla di diverso ecco secondo me questo è molto importante ribadirlo sempre perché è un aspetto realistico che secondo me è fondamentale cioè non si può imbrogliare su questo per cui le donne dei miei romanzi hanno sempre una storia particolare poi io parto sempre da questo presupposto della sconfitta rispetto a un mondo che di fatto loro non appartiene poi la serie delle vendicatrici dove invece abbiamo dei personaggi di donne che si hanno dei dolori dei traumi delle violenze riscubiscono però reagiscono anche reagiscono anche insieme qualizzandosi esattamente infatti la differenza come quando scrivo di donne rispetto a criminalità scrivo in un modo poi ho scritto le donne di plaza del maggio le mamme e le nonne poi ho scritto insieme a videtta le vendicatrici perché lì siamo partiti da un ragionamento sulla vendetta il romanzo più famoso sulla vendetta è il conto di Monte Cristo però ci siamo chiesti ma se il conto di Monte Cristo fosse stato una donna come si sarebbe comportato e ci siamo risposi in maniera molto più intelligente perché è vero è un grandissimo romanzo però non c'è secondo me secondo noi insomma ha un grandissimo difetto no e cioè il fatto che è un punto di vista perdente rispetto alla propria prospettiva di vita no e invece ci sono immaginato e queste donne no che si mettono insieme quattro donne e quattro romanzi che si mettono insieme anche da un punto di vista economico cioè da un punto di vista materiale per liberare e usano la vendetta come strumento per liberarsi dagli uomini sbagliati che hanno rovinato la loro vita ma nella prospettiva di un'altra vita cioè di una vita migliore di un'esistenza degna che è tutto un altro progetto è stato molto interessante lavorare al femminile io l'avevo già fatto con ad esempio con Niente più Niente al mondo ma ricordo che in audio a un certo punto ha detto non sappiamo come c'è due maschi che scrivono il femminile dei quattro romanzi e quindi ci hanno imposto giustamente come forma di controllo una editor donna che però ha letto solo prima di dire va tutto bene continuate così insomma quindi alla fine abbiamo trovato il giusto equilibrio c'è un altro libro che io ho amato molto che si chiama Il Corriere Colombiano che anche lì è dedicato ad un amico perché appunto l'amicizia ritorna sia nelle libri dedicate a memoria degli amici sia come valore nei suoi romanzi e lui appunto è un innocente che sconta una pena per il traffico di stupefacenti perché non accetta le regole della legge e non tradisce gli amici soprattutto lei scrive avere un amico in galera è come avere un amico morto che forse un giorno risuscita e si ripresenta nella sua vita è così nel senso che è esattamente la realtà e c'è questa distanza che poi si può colmare solo quando se si può condividere la libertà quindi scusso molto preciso Il Corriere Colombiano è un romanzo che nasce anche quello da un'inchiesta il fatto che gli italiani hanno gente del nord est che ha bisogno di arricchirsi ma anche per motivi abbastanza futili l'amante la barca e che si inventa l'idea di diventare narcotrafficanti per un periodo molto limitato della loro vita giusto per fare un po' di soldi e quindi vanno in Colombia e riescono a convincere le organizzazioni criminali a vendere piccole partite di droga e che poi verranno vendute nel giro degli amici per fare al tempo qualche manciata di milioni di lire ed è un meccanismo che poi ha funzionato e ha dominato anche per un certo periodo lo spaccio in Veneto poi è successo qualcos'altro hanno messo tutto sotto controllo però per un periodo è andata così perché i colombiani avevano capito che anche questo poteva questo tipo di mercato poteva fruttare allora da questo racconto questa storia di questo colombiano con gli ovuli che ha ingoiato gli ovuli che arriva all'aeroporto di Venezia Marco Polo e lì viene fermato da lì si sviluppa tutta una storia parliamo dell'ultimo libro blues per cuori fuori legge vecchia puttane edito da E.O torniamo alla storia dell'alligatore ai suoi soci Max la memoria e Beniamino Rossi cadono appunto in una trappola che viene creata da Giorgio Pellegrini che è anche diciamo il cattivo l'antialligatore diciamo che era protagonista già di un altro romanzo cioè una specie di crossover dove i personaggi fanno dei lunghi giri e poi si rincontrano ci vuole raccontare beh il crossover nasce dalla banda degli amanti nel senso che Pellegrini è il personaggio di Rivederci Amore Ciao e alla fine è un giorno noioso però è andata così io per sette anni ho lasciato in panchina l'alligatore perché avevo altro da scrivere io cominciavo prima all'inizio non non dipendo dai personaggi non lavoro su di loro ma lavoro sulle storie a un certo punto dopo sette anni ho dato l'annuncio che l'alligatore sarebbe tornato e sono arrivato in una marea di mail di di fan di Pellegrini che hanno detto è noi cioè il problema della serialità è una questione complessa io racconto sempre che mi è capitato questa cosa a Trieste stavo presentando una situazione come questa stavo parlando un signore mi ha interrotto si è alzato e ha detto tu non puoi fare quello che vuoi nel senso che non è che inizi una serie e poi scrivi altro perché questo legato al discorso che facciamo prima sulla relazione tra lettori e serie è proprio così nel senso che la serie diventa una sorta di impegno giustamente il signore aveva assolutamente ragione a lamentarsi perché sette anni rispetto a una serie sono tanti infatti ho promesso quello che poi non riesco a garantire di fatto cioè no che promesso cioè farò 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 in realtà poi è molto complicato però insomma ho cercato di giustare un po' la cosa e ho scritto tre romanzi dopo essere stato sgridato quel signore con la con l'alligatore e dal primo ho cominciato a fare il crossover come fanno spesso gli autori americani prendono tutti i personaggi seriali e li mettono insieme io ho preso i miei tre personaggi seriali che sono l'alligatore i suoi amici Giorgio Pellegrini e l'ispettore campagna li ho messi insieme ad altra parte vivo la stessa città a un certo punto è un analogico che si sarebbero incontrati e frequentati e li ho messi insieme all'inizio tutti hanno detto ah che operazione in realtà è molto banalmente perché non sapevo come uscirne da quella situazione però è venuta fuori bene insomma la storia la storia si adattava e anche questo romanzo in blues poi fuori legge ho continuato ad avere questa sorta di crossover che che funziona nel senso che da un lato accontento i lettori e dall'altro invece sono personaggi che sono in grado di raccontare in maniera completamente diversa cioè di avere punti di vista completamente diversi all'interno del romanzo sulla stessa storia insomma non è non è male avete qualche domanda da fare all'autore perché siamo siamo in chiusura ha chiesto quali sono le sue scrittrici di riferimento e gli ha detto la prego mi dica che ce ne sono sì prima Camilla citava anche il fatto che dirigo non dirigo curo esattamente mia moglie che dirige questa collana uno dei grandi sforzi che stiamo facendo è quello di individuare nuove voci al femminile perché secondo me sono assolutamente interessanti e adesso per non citare i mostri sacri eccetera ci sono due autrici in cui io credo moltissimo proprio adoro la loro scrittura una è Patrizia Rinaldi scrittrice napoletana scrive per bambini ha un personaggio seriale che è blanca e scrive dei romanzi pazzeschi ha scritto ha una scrittura voglio dire così espressiva che può sembrare a tratti teatrale ricercatissima ma è una delle più grandi scrittrici italiane secondo me oggi al di là del successo che ha però una grandissima scrittrice e ha scritto un romanzo secondo me capolavoro che è Giugno Giugno è un romanzo di una bellezza che ho letto e riletto e quando il Salone Libro di Torino due anni fa mi ha chiesto porta un libro della tua vita e raccontalo ho portato Giugno anche se l'avevo appena letto perché secondo me la letteratura è così quando mi chiedono quali sono i tuoi maestri il maestro posso averlo incontrato anche il giorno prima perché la letteratura è così è una continua scoperta se rimani ancorato a quello che hai letto un tempo un'altra scrittrice che mi piace moltissimo in cui credo molto è Giorgia Lepore Giorgia Lepore è proprio una scrittrice che lavora lavora con noi in sabotage è un'archeologa che insegna storia dell'arte in un liceo della Puglia ed è una scrittrice secondo me straordinaria molto brava proprio è un piacere seguire il lavoro di queste due scrittrici proprio da quando ti raccontano l'idea quando proprio raccontano e scrivono il romanzo quindi altro che le lettrici ce ne sono e come altre domande grazie di questa domanda perché in realtà per ragazzi ne ho scritto uno per bambini con mio figlio allora quello mio figlio è andata così nel senso io avevo costruito una storia che nei miei piani assolutamente sbagliati doveva partire da quando era in grado di ascoltare le storie mi chiedeva le storie fino ai 18 anni questa per cui ci avevo infilato dentro tutti i miei personaggi queste cose qui eccetera eccetera e quindi ogni sera raccontavo questa storia a un certo punto una sera ho visto queste due manine aggrapparsi al bordo tirarsi su guardarmi e dire babbo è nato in Sardegna per cui dice babbo e in questa storia non c'è un bambino sono svenuto ovviamente che c'è mi aveva atterrato e aveva perfettamente ragione e allora abbiamo cominciato a costruire insieme questa questa storia e lui ha cominciato a tirare fuori i personaggi eccetera eccetera abbiamo scritto questa favola insieme che poi è stata illustrata da Tini in Mantegazza che è stato l'inventore della melevisione che è uno dei miei maestri e mi ha e ha voluto fare questa cosa insieme è stata un'esperienza molto bella anche andare in giro a presentare il libro con un bambino che a volte ha voglia di parlare altre volte no giustamente faceva il suo mestiere di bambino e adesso stiamo ancora litigando per i diritti cioè lui è convinto che io l'abbia derubato Jimmy da Collina Jimmy da Collina io vivevo in Sardegna all'epoca conosco questa comunità che è una comunità straordinaria una comunità di recupero per giovani criminali ed è una comunità il cui scopo è quello di impedire che i ragazzi che arrivano a maggiore età all'interno dei carceri minorili finiscano nei carceri per adulti ed è una comunità aperta nel senso che si basa tutto sul senso di responsabilità che è quello che manca completamente nel concetto penitenziario italiano ed è gestito da questo prete mezzo matto ma straordinario che è Don Ettore Cannavera una persona che era ricco ha preso tutti i suoi terreni e ci ha costruito questa casa proprio si è dedicato e ha fatto un lavoro straordinario io ho conosciuto dei ragazzi che nessuno voleva più che erano destinati alla peggiore delle carriere criminali invece risuscitare in questo posto è un posto dove le regole sono ferre nel senso che ci si alza alle 6 del mattino e si lavora lì coltivano piante ufficinali e si può sbagliare una volta solo qualcuno sbaglia qualcuno no però voglio dire quello ho visto recuperare proprio sul discorso del senso di responsabilità moltissimi ragazzi ed è un posto che è dove la gente esterna può frequentare portare il proprio contributo quindi un posto aperto alla città e questo mi ha molto colpito per cui ho trovato una storia veneta e l'ho portata lì e ho raccontato i personaggi sono molto reali poi Enrico Pau regista Sardo ha girato un film Jimmy da Collina che è andato molto bene all'estero in Italia un film molto strano dal punto di vista finanziario perché è stato finanziato tutto a livello regionale o dalla regione ma anche da privati che credevano in questo film e quindi se vi capita è un quadrato che è molto molto bello e poi l'altro che ho scritto è sulle parte dalle regolari parlo dei figli dei desaparecidos che è più lungo il titolo del racconto in realtà è il giorno in cui Gabriele scoprì di chiamarsi Miguel Angel che è una storia che ho incontrato lì intervistando i figli dei desaparecidos in Argentina ho scoperto questa storia di questo Gabriele e l'ho raccontata è una storia che al contrario cioè di un ragazzo che scopre di essere stato adottato dal torturatore dei propri genitori e che rifiuta di conoscere la propria famiglia biologica ma vuole stare con 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 questi due rapitori di fatto e però per la legge argentina questi finiscono in carcere anzi questi fuggono per cui è una storia lacerante ed è la storia del difficilissimo rapporto tra questo ragazzo e la nonna che è l'unica superstite della famiglia biologica e che cerca di disperata perché non riesce a costruire un rapporto però ha una storia verissima perché non sempre le storie finiscono bene come il noir insegna e direi che questo è un finale perfetto allora se volete potete avvicinarvi per farvi firmare delle copie o parlare un attimo con l'autore noi vi diamo appuntamento al 20 aprile con Marco Malvaldi avrete due autori simpaticissimi faranno morire a rire speriamo grazie a tutti grazie a tutti